Siamo con coach William Orlando, una partita che onestamente a livello di punteggio era abbastanza segnata però comunque buone indicazioni dalle più giovani, da chi magari doveva recuperare, aveva bisogno di fiducia sei comunque soddisfatto di quanto c'è stato questa sera su perché? Sì, sono contento al di là dei risultati, al di là che abbiamo giocato comunque con Terni che era rimaneggiata perché stiamo crescendo, perché la squadra mi ha fatto vedere comunque determinati concetti su cui abbiamo parlato durante la sessione video, durante gli allenamenti li stanno acquisendo perché ci sono stati chiaramente dei problemi a Roma abbiamo visto insieme situazioni di blocchi o di poca fluidità dei giochi in attacco questa sera diciamo che è andata molto meglio rispetto alla prima partita poi sì, la panchina e le giovani hanno risposto molto bene, hanno avuto diversi minuti e sono contento di come ci hanno risposto Mercoledì partita difficile e ovviamente decisiva a Roma contro il basket Roma che partita sarà secondo te e su cosa bisognerà lavorare per continuare questa striscia positiva? Sì, sicuramente è una squadra molto giovane quella di Roma quindi metterà la partita come giusto che sia sull'intensità, sul ritmo e noi dobbiamo essere pronte a rispondere con la stessa arma perché sappiamo quando si gioca a Roma è così quindi secondo me noi dobbiamo essere pronte ad essere intense ad essere cattivi agonisticamente perché per noi è una partita molto importante come abbiamo detto tante volte, è come se fosse una finale e quindi dobbiamo far valere questo aspetto mentale dell'importanza della partita e dobbiamo essere determinate su tutte le zone del campo grazie